Stavo leggendo questo splendido libro sul cinema, nuova storia del cinema, a cura di Beatrice Fiorentino, che mi è stato donato dagli amici della casa editrice Herply. E mentre lo sfogliavo... Roma città aperta, è capolavoro, Anna Magnani. E mentre lo sfogliavo, pensavo, ma lo sapete che là fuori c'è ancora un sacco di gente che confonde cinefilo con cinefilo e cinofilo con cinefilo? Non ci credete, eh? E invece è così. Cinofila o preferisci il teatro? Cinofila. Perché? Costa meno. Entrambi i termini hanno in comune la parte finale, philo, che deriva dall'aggettivo greco philos, che significa che ha amore, simpatia, tendenza, affinità, per. Il cinofilo, quindi, è una persona che ama i cani e può essere anche un allevatore e conoscitore di razze canine. Mentre un cinefilo è un appassionato o un appassionata di cinema o della storia del cinema. Chiaro, no?